Eccoci nel primo video della campagna di Call of Duty Black Ops 3 Ho dato una piccola personalizzazione molto superficiale al personaggio Anche perchè non c'erano grandi disponibilità a livello di scelte Sto per iniziare la campagna con questo primo video Sono indeciso tra veterano o esperto Sicuramente soldato e reclute no perchè sono veramente di una banalità sconvolgenti Penso che punterò esperto dato che è anche la prima volta che faccio questa campagna Cambio il livello di difficoltà Anche perchè poi ho visto che si può fare la campagna anche in cop Quindi magari la difficoltà l'alzerò quando farò con un amico i video della campagna in cop Se li farò adesso non ho ancora tutto da organizzare Ok Ok posso anche cercare una partita pubblica Quindi fare la campagna con un altro personaggio Ok seleziona missione Queste sono le missioni Penso che farà una missione a video a questo punto Non so più o meno quanto dureranno Iniziamo Vediamo se la campagna di Cody è spettacolare come sempre Il mondo sviluppato umano è diventato una pratica comune nel mondo sviluppato La portata di questo disastro ha sopraffatto le autorità Le super tempeste funestano la regione Ostacolando i soccorsi Viviamo nell'incertezza Il futuro dipende dalle scelte che compiamo Con il continuo aumentare della popolazione Si moltiplicano le megacittà Le condizioni estreme hanno provocato grandi esodi di massa Le basi dell'accordo erano in allerta Il sistema DEAD ha neutralizzato l'attacco quasi immediatamente Nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno causato altre vittime Ebbene sì Questa è una nuova guerra fredda Anche se spesso non possiamo vederli I nemici sono là fuori Sono Jacob Hendricks Il nuovo capo Questo è il ministro egiziano Said Preso in ostaggio dall'NRC due giorni fa Dopo le recenti rivolte al Cairo Vorranno farne un esempio Punirlo Noi dobbiamo impedirlo Tanto per chiarirci Se dovesse andar male Poi non esistete Ottimo Mi devo ricordare di fare una cosa prima di partire Adesso lo faccio subito Quella di sistemare lo schermo Perchè Perchè Cargo 4 0 1 9 Carburante in fiamme sulla pista 1 9 Procedere all'atterraggio sulla pista 1 1 Confermare Ok, a te Ok, modulo di violazione inserita Ricalibrazione puntamento dead C'è qualcuno Bypass manuale dead Definire bersaglio Input confermato Dati di puntamento inserita Torre Siamo stati agganciati Qui non ci risulta Possibile che abbiate un guasto Fuoco Ora Fuoco Sistema dead in funzione Ingaggio Oh merda State giù Stiamoci da fare Taylor Diversivo riuscito Mezzo a terra Confermato Le sentinelle stanno andando a controllare Puntate al pacco Prendetelo prima che si rompa O che lo rompano Va bene Ci vediamo più tardi Confermato Bene, bene Fatemi sparare un po' Ho voglia di far casino Lo schianto li tiene occupati Intanto con questi uniformi Passeremo inosservati Almeno finché non apriremo bocca Allora tienila cucina La stazione di sicurezza è di là Nei tunnel Una volta lì Potremo scoprire la posizione esatta del ministro Testa e armi bassi Sangue freddo Fino al recupero Con calma Con calma Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Taylor, cerchiamo il pacco. In attesa di riconoscimento facciale. Altri ostaggi? Pensavo ci fosse solo il ministro. Sì, anch'io. Guarda quei poveracci. L'NRC non va mai per il sottile. Taylor, sapevi degli altri prigionieri? Il ministro è l'unica priorità. Ricevuto. Il prossimo feed. Lasceremo che li torturino a morte. Abbiamo degli ordini. Negativo. Eccolo. Eccolo. È il ministro. Lo spostano. Dobbiamo scoprire dove lo portano. Eccolo. Eccolo. Ok, mi fa imbracciare l'arma. Quindi sta per incominciare la festa. Oh. Rilancia. Ah, ok. Oh, oh, oh. Ci siamo. Mitragliere, lassù. Mitragliere, lassù. Ecco le celle. Dietro di me. Ok, volevo solo controllare se c'era qualche collezionabile. Niente, ritorniamo dall'amico Fritz. Ora vai nella sala osservazione. Ok, ci deve rompere. 3, 2, 1... 3, 2, 1... L'interrogatore dalle spalle alla porta. Due sentinelle con la guardia abbassata. Due sentinelle con la guardia abbassata. Al mio segnale. 3, 2... Via! Siamo qui per salvarla. Faccia come dico e se la caverà. E il tenente Khalil? Gli altri! No, non c'è tempo. Khalil è stato un eroe della rivolta del Cairo. Sapete che questo lo rende molto prezioso per la loro propaganda. Lo faranno diventare un esempio. Cazzo! Ok, andiamo. Venga, ministro. Venga con noi. Qui, è lui. Alla porta. Guarda, ti copro io. Tiro giù quel poveraccio. Ah, sì, dai. Ministro. Khalil. Hendrix. Vuoi combattere Khalil? Sempre. Prendiamo un'arma da quell'armadietto e riprogrammiamola con i tuoi dati. Ormai ci stanno addosso. Andiamo! Taylor, pacco in arrivo. Con uno in più. Uno in più. Dovevate prendere solamente il ministro. Si tratta del tenente Khalil. Ti dice qualcosa? Muovetevi. Ci vediamo di sopra. Quel deposito sarà ben difeso. Pronti a far fuoco. Puoi combattere Khalil sempre? Frasi da stereotipo americano. Quando ne uscirà fuori questi di COD saranno grandiosi. Attenzione, me la sto vedendo male. Bella granatina, risolve tutto. No, 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 no. No, 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 no. L'NRC vuole impedirci di salire. Il montacarichi ci porterà sull'hangar. Se mi aspetti un attimo faccio un giretto. Mi aspetti? Grazie. Ok, andiamo sul montacarichi. Giù le armi! Abbassatele, subito! Facciamole, siamo morti. Fidati. È meglio fare come dicono. Giulia! Avanti! Siete in ritardo! Sei tu ad essere in anticipo. Felice di vederti, Jacob. Anche io, John, sembri diverso. Vedi ancora, Rachel? Non ha funzionato. Che peccato. Una recluta? Non rimpiango quando ti prendevi cura di me. Non è divertente. Che mi dite del recupero? Cariche pronte? Andiamo, abbiamo dieci minuti. Diaz, devi fare da babysitter! Forza! Resta vicino. Diventano invisibili. Ok, chiaramente devo andare di là. Non partono, ok? Posso farmi un giretto veloce. Nel prossimo hangar! Sì, aspetta un attimino. Sì, aspetta un attimo. Scusate! a quelli ci penso io dai le nostre armi sono inefficaci contro quella le nostre armi sono inefficaci contro quella pc dobbiamo abbattere quel beatle puntare ai missili ah ok ok non facciamo un cazzo alla pc fuoco sul beatle abc è andato ehi percepito Hendrix appuntamento con all dall'altra parte dell'hangar abc è andato wow andate al ponte io li tengo occupati più avanti oltre il ponte ma retti ti porterà fin laggiù sprechiamoci restano cinque minuti ehi no ok ai si andiamo ho capito zio ma qua sono fuori ma in arrivo dal ponte possiamo scordarci il ponte ma retti qual è il piano da a cazzo piano b facciamolo saltare andremo al recupero secondario taylor recupero primario compromesso passiamo al secondo forza al punto di recupero secondario via le luci cosa vuoi farci combattere al buio più o meno vi trasmetto il feed tattico ricorda loro non hanno misure con tutti con calma uno alla volta attraffittiamone disattivazione feed tattico e adesso quel vitol ci blocca qui eccolo calmi non sparate c'è l'ho oh 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 vabbè ma questa è squadra alfa 2 riunita per il recupero stiamo calmi eh taylor il recupero è alla torre satellitare prenderemo un veicolo e riporteremo là non mi hai risposto john forza il punto secondario è più avanti ok proseguiamo casse di esplosivi quindi l'imboscata vai 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 e io taylor via libera ce la caviamo ci sono altri ostaggi potreste liberarli voi non sono una priorità lo so benissimo ma sono pur sempre persone cazzo ormai hai perso ogni briciolo di umanità ok cambio di programma Hendrix voi preoccupatevi di portare il ministro al sicuro noi torneremo per gli ostaggi altri robot nessun problema sono pane per i nostri denti uscite da qui via però qua ce n'è uno guido tu usa una torretta grande un sacco di robot che ce l'hanno con noi si li faccio fuori tutti andatevene a fanculo fuoco su quel beetle occhio facciamo una deviazione cazzo si cazzo si la mitagliatrice non c'è problema è che iniziano ad esserci un po' troppi robot questa merda non può mollarci qui si sta scaricando la mitagliatrice puoi farlo partire per favore puoi farlo partire per favore distruggi quel veicolo oh 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 30 secondi trasmissione coordinate di recupero Hendrix bersagli aggiuntivi al sicuro portateli al ministro noi procediamo al recupero secondario con quattro pacchi extra ricevuto esco di strada recupero in vista cazzo siamo troppo veloci cazzo è il nostro passaggio primo passaggio imminente tenetevi pronti capsula sganciata spazio aereo non praticabile il drone farà un secondo passaggio rinforzi nrc in arrivo da sinistra ministro tutto bene può muoversi sto bene sto bene vi prego portatemi via da qui via muoviamoci andiamo via pronto vieni ah dovevo scappare non devo fermarmi a sparare rinforzi nrc in arrivo da sinistra ministro corro subito allora cosa devo fare devo sparare o scappare rinforzi nrc in arrivo da sinistra rinforzi nrc in arrivo da sinistra rinforzi nrc in arrivo da sinistra tutto bene tutto bene può muoversi sto bene sto bene sto bene vi prego portatemi via da qui muoviamoci andiamo via eh fammi stare ok calma rinforzi nrc in arrivo da sinistra rinforzi nrc in arrivo da sinistra ministro tutto bene tutto bene sto bene sto bene tu prego viaggiami via da qui muoviamoci andiamo via presto eh allora respingeli ci serve il ministro in posizione il drone concentra il fuoco su bersagli e molti facciamola finita gente non mollare manca poco il ministro face al sicuro devi tenere a bada quei bastardi il drone in posizione pronto al recupero è libero ti voglio subito qui vieni subito qui dai 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 no aspetta drone pronto a pannega al vivo spazio aereo compromesso nooo rinforzi vieni subito la mia squadra è ancora a regumero altri robot nrc in arrivo arriviamo due minuti tenete duro non morirete oggi ah aah porca putzana Ehi! 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 La camera è! Vieni duro! Resisti! Te la caverai, me l'hai tagliato pure l'uccello. Ok. Lui dice che me la caverò, io mi fido, anche perché ci sono altri livelli, quindi il gioco va avanti. Bene ragazzi, questi è tutti gli effetti una nuova missione. Quindi vi saluto qua, ci vediamo al prossimo video. Se il video vi piaciuto lasciate un piacere, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!